buongiorno ragazzi è partito anche il bambino con l'oxilofono in sottofondo va bene buongiorno buongiorno con il bellissimo pregianza la barba che barba che volevo dire con il bellissimo d'ambinzeria in italiano ma mi mancano i milioni e i muscoli quindi in realtà e anche la simpatia perché quando è quelle tre cose di sé anche estremamente simpatico ai tuoi amici fondamentalmente sì comunque detto questo questo oggi abbiamo le domande e le risposte le risposte le domande se non si chiamava vuoi iniziare tu con qualcosa che vogliamo dobbiamo dobbiamo più che altro iniziare con un'argomentazione piuttosto significativa che è perché hai dato solo otto e mezzo a blood dragon non era quella non era quella secondo me invece era quella quella fondamentale allora prima di tutto dato 8 e mezzo a blood dragon perché pur sempre un dlc di durata breve ragazzi come direte conseguenza smetti come direte conseguenza un 9 è l'eccellenza e un dlc per prendere 9 deve fare dei miracoli astrusi come aveva preso ci sono dei dlc che di solito arrivano l'otto e mezzo nessuno è riuscito a superare quel pezzettino che ti porta al 9 neanche blood dragon a mio parere perché pur sempre di contenuto downloadabile si tratta valentini non è d'accordo con me ne sono consapevole rimane comunque un dlc della madonna e per quanto quindi l'otto e mezzo secondo me è giusto secco secondo voi non è giusto pace l'anima non era come sempre è uno spin off no è un dlc valentini è un contenuto scaricabile un ottimo ottimo contenuto scaricabile ma così rimane l'argomentazione solo elisabeth vale il nome solo elisabeth vale 9 e mezzo va bene comunque non è stato comprato da google è stato comprato da amazon cosa che ci ha fatto molto piacere twist incredibile di questo incredibile cosa che ci ha fatto molto piacere perché come ben sapete il nostro rapporto con youtube è di amore e odio più odio che amore perché i bot di youtube è qualcosa di veramente indecente tanto che ci ha bannato recentemente per un immagine di chi fa 15 per dire è giusto siamo di nuovo bannati da youtube siamo di nuovo l'abbiamo sbannato tipo l'altro ieri e poi ci hanno ribannato per un immagine ma quindi perfetto stiamo cercando di mettere a posto tra il diretto tra l'altro senza neanche il giallo e adesso stiamo e elettronic arts sta gentilmente cercando di risolvere perché paradossalmente non era quello che voleva fare ai youtube che come solito è andata a cacchio per il resto twitch non è più di google e già il bot che di solito tappava l'audio ha smesso di funzionare così dirette la sera proprio andando a bomba in realtà siamo abbastanza contenti perché la politica di amazon sulle acquisizioni perché amazon gigante come ha già acquisito altre aziende di solito è andavate benissimo come andavate prima fatevi i ragazzi vostra nel senso non non vi ritocchiamo certo magari ci saranno anche in quel caso dei dei ricollegamenti diretti cioè nel senso c'era chi diceva ma chissà magari twitch sotto un gioco ti mette i link di amazon con la ricerca del gioco così puoi comprarli direttamente può essere può essere però non è esattamente una roba che va di grande perdita insomma potremmo farlo anche noi voglio dire ed è anche chiaro che amazon sta investendo nel settore del gaming perché dopo aver acquistato gli sviluppatori di strider e killer instinct cioè gli elix i double elix adesso sta anche comprando la prima piattaforma di streaming videogiochi al mondo quindi si rimorreggiava anche una console tra l'altro una console che in realtà era l'amazon fire che era questa specie di roba a parte di media box insomma non è certo una console però c'è il rischio che amazon stia veramente investendo per diventare un competitor di sony e microsoft cosa che potrebbe essere non lo so è imprevedibile è veramente imprevedibile perché amazon ha una gigantesca potenza economica e sicuramente più contatti di quella con i distributori non penso ce ne abbia nessuno e sicuramente è da tenere d'occhio a me piace amazon come marchio come come filosofia sì perché ci compri di solito la roba online e comunque sì questa era l'argomentazione importante della giornata seconda argomentazione importante della giornata è quel burlone di arada che si è presentato quel burlone di arada perché c'è chi chiedeva appunto di pokken fighters allora in realtà pokken fighters in realtà ragazzi a rada era arrivato una bottiglia di branding sulla buona strada per finire tekken cross street fighter però è arrivato nintendo che una carriola di dollari e alcol perché è ancora da la tendenza a bere molto e gli ha detto senti se tu cambi se reschini tutti i personaggi di noi ti diamo questa carriola di denaro e alcol e lui ha detto va bene parlando seriamente allora così no esatto sembrava uno no parlando seriamente tekken cross street fighter ormai diventa sempre vicino essere un vaporware come al solito invece secondo me con questa mossa hai già le basi per fare un tekken cross street fighter in futuro visto che i pokemon utilizzano gli attacchi dalla distanza allora in realtà sicuramente no no allora la discussione è più ampia e allora facciamo non è non partiamo dalla mela non sei del tutto scemo del grato nel senso il tuo ragionamento non è sbagliato perché perché i pokemon effettivamente dove ti metto sulla carriola e mi beve comunque dicevo i pokemon hanno effettivamente poterie dalla distanza mosse energetiche tutte queste figate nel trailer hanno fatto vedere machamp e lucario che sono principalmente quelli che semenano e così me la fai facile però è chiaro che c'erano chiaramente il motore zanjith su si su machamp che faceva anche lui e bene o male devi cambiare il motore è quello di tekken devi cambiarlo tutto però fondamentalmente perché non non supporta quel genere di gameplay dalla distanza con i poteri energetici quindi è chiaro che stanno sperimentando anche perché è un casino schivate assolutamente in tre dimensioni è chiaro che lo devi sistemare e devi riuscire a fare un 3d fighter che riesca a gestire anche lo zonning una cosa che è stata provata non è funzionata molto benissimo nel senso non è un non è non è facile fare un 3d fighter dove lo zonning sia una strategia applicabile lo ci siano degli zoner che funzionano decentemente anche perché appunto hai il movimento in tre dimensioni quindi non ti spara una fireball e fai un passettino sì erano più arena fighter quelli che usavano esattamente cioè quelli che hanno la visuale dall'alto alla powerstone alla powerstone ti faccio un esempio se riescono a trovare la chiave di lettura per tutto questo molto interessante potrebbe anche venire un ottimo gioco è chiaro che questo non è il gioco di pokemon in 3d che la gente si aspettava nel senso però è da un po che si che gira sta voce perché comunque era un po che si sentiva che nintendo aveva contatti con namco e c'era stato questo video finale che molti avevano già intuito essere un picchiaduro anche perché comunque se mi metti due fight in pokemon uno davanti all'altro è chiaro che sono quelli cioè il genere probabilmente è quello certo fatto da namco non è che sono gli ultimi arrivati a livello di picchiaduro potrebbe essere una gran cosa io sinceramente ho qualche aspettativa per il gioco bisogna vedere se riescono a risolvere nel senso se riescono veramente a modellare il loro motore attorno a questo gioco a fare qualcosa di completamente diverso e molto divertente il team che c'è dietro ha sicuramente il potenziale per farlo l'altra cosa è che però è un arcade c'è arriva nelle sale giochi in giappone da noi potrebbe volerci molto tempo perché è chiaro che il gioco se arriverà da su una qualche console arriverà su wii u però prima vogliono testare vogliono sondare il terreno con l'arcade in giappone e da noi sta cosa non la vedremo mai perché in italia le sale giochi purtroppo ragazzi sapete bene come sono messe e quindi ci sarà comunque aspettare molto tempo figliuoli figliuoli e praticamente padre e vediamo vediamo un po come viene fuori di sicuro tra shoryuk e altre cose le informazioni soltanto andiamo con le domande agli utenti io non ce la sbrighiamo più oggi che ce ne sono già un centinaio sotto e poi dobbiamo passare anche alla chat e quindi vi ricordo ragazzi di fare una domanda solo per commento diventando veramente troppi c'era chi diceva che la nostra utenza era peggiorata quella dopo e dopo ci arriviamo sono d'accordo è perché c'è certa gente tipo the smite aron coppola che la gente li piace mica chissà che stream peggio di così non si può avere guarda comunque lo posso garantire allora lo che è in cappello invece che è uno serio ti chiede volevo farvi i complimenti per l'ottimo lavoro svolto nella stesura delle anteprime riguardanti la games con grazie mille perché non è una domanda ti stai bullando ho davvero faticato in germania e finalmente avanti sono contento che i miei sforzi vengano apprezzati in questo modo si veramente io te io te lo tengo fermo e tu lo meni vi ringraziano anche i miei colleghi che ha seguito la scia lasciata dal leader e poi se vi aspettavate grossi annunci da sony nelle sue conferenze di settembre ad esempio il tanto atteso rpg dei guerrilla allora si vocifera molto si vocifera che sony abbia trattenuto molti assi nella manica alla games com proprio per mostrarli al tgs perché perché ps4 al momento non sta non è esplosa in giappone insomma nelle zone asiatiche e mentre invece è esplosa qua perché da noi ha venduto uno sfacelo in europa stati uniti quindi è chiaro che al momento qua vendono benone e forse vogliono fare un botto a livello di marketing immagine nella principale fiera giapponese ok quindi secondo me c'è la possibilità che venga fuori qualcosa di molto importante al tgs da sony però ormai non mi fido più tantissimo dei rumor perché anche se all'ultimo all'ultimo e3 si sono rivelati relativamente veri quasi tutti insomma doveva teoricamente vedersi alle tre questo gdr di guerrilla games il visto poi alla games com non si è visto insomma io inizio un attimino a dubitare che sia effettivamente un gdr che sono sicuro che guerrilla sta lavorando qualcosa però non si sa ancora di cosa si tratti probabilmente un progetto ancora molto per aria poi magari al dgs esce fuori però non mi sembra la casa su cui puntare in giappone perché bene o male chi se li impippa in giappone guerrilla games capito cioè in giappone vanno capcom vanno square vanno quale case lì se tiri fuori guerrilla games ti dicono ecco anche perché capcom ci avrà fare parte di 15 nello spero che esatto esattamente quindi boh vediamo anche su final fantasy 15 dicono potrebbe essere un grave problema fatto che il game designer se ne sia andato si ragazzi potrebbe ma bisogna vedere a che livello è lo sviluppo del gioco va bene andiamo avanti come sempre facciamo domande un po più stringate se no e anche risposta un po più stringate dai abbiamo fatto la recente riscoperta dello spazio ci sta per portare tre simulatori spaziali tutti partoriti da case indipendenti bene o male e molto ambiziosi sì ora vi chiedo aveva ragione la voce di star trek spazio ultima frontiera siamo arrivati alla saturazione di ogni altro genere videoludico ti rispondo chiede stefan gli dico no allora non siamo arrivati alla situazione di ogni genere videoludico perché come se ben pensate a livello di marketing i generi che sono saturati nel senso dove tutti cercano di fare qualcosa sono gli shooter al momento e e basta bene o male cps fps sono quelli dove tutti cercano di mettere mettere la loro un po si sono saturati picchiaduro dopo il botto di street fighter 4 però diciamo che la situazione non raggiunge mai quel livello in cui genere muore ok anche perché comunque c'è scelta in generale interno del genere quando c'è tanta massa e chiaro quello ci sono sempre gli indie a portare sì sì esatto e infatti sugli gli spessi monetari sono indie perché dovete rendervi conto ragazzi che il mercato si è diviso in due parti quella commerciale dove chiaramente il gioco tenta di tenta di vendere cosa state facendo dicevo il gioco tenta di non ti preoccupare Valentini va tutto benissimo quello lo metto sulla carriola insieme a te domani e vi porto a farsi bere da rada e vi metto anche due bottiglie di champagne e 2 magnum dove ti dico solo che le potrà anche stappare visto che è allegria e comunque farete come farete l'ice bucket voi due sarete dei portaghiaccio perfetti non ti preoccupare Valentini comunque dicevamo come abbiamo detto ragazzi il mercato si è diviso in due parti gli indie e quella commerciale bene o male quella la parte più commerciale del mercato che poi in realtà non è così semplice chiaramente è molto più stratificato però le principali sono quelle quella più commerciale chiaramente punta sui generi di facile consumo e su quelli che vendono parecchio con qualche variazione sul tema tipo progetti digital o qualche genere magari un po più di nicchia su cui puntano con progetti in grande stile è chiaro che gli indie invece cercano di fare quello che vogliono i videogiocatori principalmente di vecchia data o gli sviluppatori che sono vecchi appassionati quindi sono quando si tratta di indie game si punta moltissimo sulla nostalgia e sui generi che magari sono caduti un po in disgrazia a livello di 20 tipo i gdr vecchio stile tipo lo strategico isometrico tipo il platform da super nintendo bidimensionale con le difficilotto e tutte quelle cose qua il roguelike e tutte queste cose qua è chiaro che lo space simulator rientra nel mondo degli indie perché perché è rinato lì è rinato in questo mondo dove la gente che da anni non gioca più a uno space simulator ha detto ragazzi noi vediamo i soldi fate giusto un gioco qua che non si vede più da una vita e quindi sono rinati è chiaro che nessuno si aspettava una rinascita così possente perché comunque l'evole di finanziamenti su kickstarter sia elite che star citizen hanno fatto uno facevo di soldi soprattutto star citizen che ha superato i 50 milioni di dollari e quindi si vede che la gente li voleva proprio tanto questi space simulator per dargli tutti quei soldi è chiaro che adesso bisogna vedere la qualità dei progetti sembrano tutti e tre molto promettenti bisogna vedere se effettivamente risulteranno eccezionali come come sembrano cosa c'è scritto vai benissimo così perfetto cosa ne pensate avevi finito scusa il discorso era finito il discorso era finito no ti volevo ringraziare perché stiamo più stretti con le risposte non posso stare stretto se no la risposta non è completa hai fatto benissimo hai fatto benissimo poi sui simulatori spaziali sai che è un argomento che mi prende a bomba ed ero veramente presissimo grazie pregi per le tue parole di saggio se rispondo due cazzate ma fai benissimo ti stavo difendendo vai avanti perché la gente diceva che eri un po' logorroico e invece io dice no sta spiegando un concetto importante lasciatelo parlare cavolo ragazzi devo spiegarli deve spiegare è questo il senso qualcuno ha avuto i pregi che hai scritto in chat ne hanno scritto quelli da chat e ho detto no ragazzi lasciatelo parlare sei un imbecille comunque con gli account sei un imbecille doppiamente anche con il tuo account vabbè vai avanti e fai le domande va aspetta che mi sono perso però ti rompi il cazzo perché perdi tempo e poi perdi tempo perché non riesci a trovare le domande questo è proprio per te Jack50 ci chiede cosa ne pensate di The Sims 4? sì no forse penso che ci arriva dopo l'embargo un giorno prima dell'embargo arriva The Sims 4 e che non è esattamente un gran periodo Loresca vuole parlare vuole prendere parola dalla regia lo dico dall'ontretomba lo dice dall'ontretomba chi uscì mi sentono eh sì stavo doppiando ok comunque comunque ma io se ti fanno da pagare ma basta oggi è un delirio qua no volevo dire che secondo me un gioco come The Sims 4 è impossibile da recensire nelle in un giorno 12 ore che avremo a disposizione esatto quindi qui lo dico che lo nevo non fidatevi delle recensioni che usciranno al day one perché saranno basate su un gameplay molto breve esatto quindi sì se escono noi non usciremo al day one 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 perché comunque lo vogliamo recensire un po' più nel dettaglio e tra l'altro non è è raramente un buon segno quando l'arrivo è così poco anticipato rispetto all'embargo della review speriamo di venire smentiti però Last Smile 094 sapete qualcosa del progetto mobile del creatore di Final Fantasy Tactics Unsung 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 da quando è finita la campagna Kickstarter si può solo consultare il sito ufficiale che però non dice mai niente di nuovo si vede che sono presi la stanno facendo alla giapponese nel senso che non stanno stanno facendo tutto e poi rilasceranno stanno facendo tutto e poi rilasceranno informazioni invece di dare di fare un sacco di scenate non fare niente tutto questo secondo voi il futuro del gaming sarà fortemente legato a internet ve lo chiedo perché le connessioni da noi è già fortemente legato a internet è già fortemente legato a internet e purtroppo da noi le connessioni sono quella connettività sono quello che sono ma dovete anche valutare che come tutto si evolveranno nel senso anche da noi miglioreranno e il gaming sarà sempre più intersecato con la rete ok ti faccio questa domanda di VibZ che abbiamo preannunciato in apertura di live sulla nostra utenza ah sì quella famosa ciao ragazzi a Malincuore ultimamente mi è passato di notare un deterioramento dell'utenza di spazio mi spiego mi sembra che rispetto al passato siano aumentati di molto i flamer gli hater i fanboy e i cosiddetti bimbo minchia vi chiedo allora se è solo una mia errata impressione voi come la vedete allora la vediamo in un modo molto semplice ci siamo allargati ci siamo siamo cresciuti siamo cresciuti sia su youtube che su twitch che sui social due campi youtube e social che appartengono a una fetta di pubblico più giovane più giovane e anche magari con meno esperienza a livello di videogiochi che gira un po a casaccio insomma questo comporta un allargamento dell'utenza e nell'allargamento dell'utenza puoi far quel che vuoi ma ci sarà sempre due o tre mene marce per dirti quindi non è che cioè non è una cosa arginabile completamente ragazzi è chiaro che l'utenza che ormai gira su spazio da un po' di tempo è già più informata e un attimino sa come come sono fatte le discussioni qua da noi cerca di avere un po più rispetto ragazzino magari di 11 anni che ti becca su youtube a caso ti scrive una bestemmia sotto al topic che l'unica cosa che puoi fare è cancellargli il messaggio è chiaro ragazzi che più l'utenza si allarga più il sito diventa popolare più è facile che arrivi magari gente che o non conosce le regole del sito o tende al trolling esatto la cosa che possiamo consigliarvi è di ignorarli non rispondete alle provocazioni non rispondete alle provocazioni don't feed the troll in generale quello che quello che comunque ci piace il fatto che bene o male sempre durante i live e tutto quanto la community è sempre quella bene o male ed escono sempre delle discussioni interessanti esatto quindi comunque quando vedete molto frame molto trolling purtroppo è una conseguenza e questo nonostante la mia presenza quindi sono contento della cosa non riesco a portare sulla cattiva strada questi ragazzi che dovrebbero lasciarsi andare un pochino in realtà no comunque si è una conseguenza dell'allargamento tutto qui purtroppo non è che faccia bene vedete dal broccale del broccale dal broccale per la sal broccale del valentini 100.000 iscritti alla nostra pagina di facebook se non l'avete fatto andate a iscrivervi adesso così raggiungeremo 200.000 in men che non si dica e poi youtube e poi il mondo e poi google plus se vedete un cespuglio che rotola mettete gli like poverino perché si sentirà solo esatto comunque ci trovate tutti lì andiamo avanti perché se no non finiamo più oggi ublade giusto una curiosità tra i titoloni previsti anche per pc in uscita fra i restanti mesi di quest'anno e il 2015 su quale siete più sicuri della qualità lord of the fallen fare il rilele 15 dice ultimi mesi e 2015 lord of the fallen far cry batman the witcher assassin's creed l'ombra di mordor eccetera sono sicuramente molto sono piuttosto sicuro che the witcher sarà un gran gioco e quello ci metteremo quello ci metteremo tutti la mano sul fuoco sarà davvero notevole sono anche abbastanza sicuro che hicks però you sarà un gran gioco e smash per wii usa un gran gioco e alien alien isolation sarà probabilmente un gran gioco evolve però ripete evolve si evolve è già meno sicuro perché anche se no è ragione perché perché a livello di gameplay è una figata però i contenuti lasciano un po così perché se quelli sono i contenuti con cui esce sì ok l'idea fantastica al gameplay notevole ma poi è un disastro no il punto è che la sicurezza non può mai essere al cento per cento per ragazzi perché può succedere di tutto e non possiamo prevedere il futuro quindi sempre meglio non essere troppo ai pati per il gioco però lui dice anche lord of the fallen far cry batman assassin's creed e l'ombra di mordor questi cinque titoli che nominato secondo me se sei un appassionato dei vecchi giochi di queste saghe si può andare sul sicuro difficilmente deluderanno i fan però se vuoi non sono niente di nuovo di eccezionale si poi in realtà anche lì non lo sappiamo nel senso che unity l'abbiamo visto a sensazione a sensazione certo però buoni buoni giochi adattissime fan delle serie non portano secondo me nulla di nuovo sul mercato esatto diciamo che più che altro sono abbastanza sicuri ci sono titoli sicuri sono quelli che non sono mai orrendi così come lo è anche destini per certi versi che comunque anche in mente sarà un titolo di scarsa qualità c'è non magari non sarà un capolavoro non lo sappiamo ancora però è difficile che sia un gioco di scarsa qualità di rilancia è capolavoro che non l'ho scritto io l'hai scritto tu io ci volevo mettere davanti un potenzialmente ma non me ne volevo mettere un altro ma non mi è stato accettato è se z 91 vorrei tanto sapere se spazio fare un live su destini per vedere se ci sono le fottute barbe di pregianza e se è possibile che assolutamente sì e se non mi mettono la barba mi incazzo anche poi no era sul voto non ci sbilanciano è impossibile sbilanciarsi perché abbiamo visto buonasera di solito verso ottobre c'è nuovo vrc di milestone ma fino ad adesso non si sa niente voi avete qualche notizia no però ho visto il nuovo mxgp per ps4 che arriverà non tanto in là ed hanno fatto un buon lavoro sistemato sonora sistemato la guidabilità e hanno dimostrato anche con moto gp di avere una certa dimestichezza ormai con i tool per playstation quasi anzi vi dirò di più arriverà una video anteprima con del gameplay inedito non so quando perché devo andare da milestone nei prossimi giorni ma bene avevo questo accordo e quindi però arriverà magari settimana prossima gira avete mai pensato di creare una rivista di spazio games ma perché dovremmo dovremmo perdere soldi così è che no abbiamo spazio ragazzi il punto se volete vi facciamo un pdf il cartaceo è morto il cartaceo è morto cioè o sta lentamente quello videoludico è morto quello generale sta lentamente morendo perché non vedo perché dovremmo investire in un campo che è morente nel senso il futuro della stampa in generale è internet abbia piaccia o no ormai anche i bambini i ragazzini hanno in mano sia un ipad un cellulare cioè è vero che il piacere della carta esiste nel senso che tu sei lì con la tua rivista successo e ti leggi con pian piano le tue pagine tendeva un'altra cosa no ma no no il piacere del cartaceo c'è ancora nel senso che comunque fa sempre piacere sfogliarsi una rivista con voi non dovete ascoltarmi no è un quenè di pregi questo in un angolino io dico le cose 20 per sempre il mod che mi filtra quando sto per dire una cosa mette il bottone anti valentini il microfono esatto sono d'accordo con quest'idea direi che l'ora si può fare ora si può fare nei prossimi live implementiamo un bottone anti valentini mi sembra più che d'accordo ok dicevo no è morente come campo quindi investire in una rivista sarebbe folle da parte nostra c'è chi cazzo compra più le riviste di videogiochi ormai pochi pochissimi pochi pochi affissioni sono rimaste anche poche le riviste sono rimaste due o tre riviste in croce e quelle che ci sono si sono ridotte di tantissimo vedi tg a livelli a livello di volume se sono sono ormai che è un peccato perché siamo cresciuti un po tutti e ci siamo cresciuti un po tutti però è anche giusto che c'è come tutto che si passi ad altro nel senso o non avremmo il lavoro e alla carica ti ringrazio per tutti i dettagli su ora ma 40 mila eternal crusade mandami tutti attiva lentini e spazio games punto it che poi ci faccio un articolo sicuramente hanno dato un po di video un po di cose così ci facciamo una bella anteprima sopra un nuovo mmo di warhammer che non prende gli asset del vecchio dark millennium tu non sai niente e che non prende gli asset del vecchio dark millennium ma è un rifacimento io giocavo a warhammer ma non sono interessato ma mi hai nominato due cose un nuovo mmo già lì mi hai spento di warhammer e rimembrando gli ultimi titoli dedicati alla saga del post relic sai com'è un po mi spiace per relic perché quelli lì era veramente veramente belli gli strategici non era brutto di ps quello quasi così me lo rigioco ma quello ve lo rigioco nelle prossime settimane io ve lo dico quello sì sì sarà argomento di live andiamo avanti ciao ragazzi ci sarete al mantova gaming park no no mi spiace normalmente appariamo magicamente in due fiere in italia che sono lucca e la games week a luca non abbiamo neanche lo stand lo che giriamo alla games week abbiamo lo stand di norma ci trovate lì quest'anno girerò io anche a pisa il 27 e messaggio promozionale un messaggio promozionale giro al 27 28 di settembre la domenica insomma intorno a quelli i weekend le dati di al pisa comics and qualcosa così sarò lì soffri devo fare delle cose quindi sarò lì in fiera nel caso ci sia qualcuno che è interessato a conoscere ma anche no ma che voglio dire non vi prendete niente da assolutamente perché tu c'è non mi hai qua tutti i giorni ma senza di me non rideresti neanche un po' è una giornata triste e buia la tua test impiccato in bagno da tempo immemore a me adesso non esageriamo arriva avanti ragazzi vi volevo chiedere il prossimo call of ti implementerà lo split screen bella domanda non credo regia crava cercare dalle tue mille fonti dal libero mastro dell'internet se avvassano la base non per screen su google ma no non credo mi ricordo se le presentazioni insieme vabbè sapete qualcosa sulle novità di mbi 2015 c'è un anteprima abbastanza completa sul sito andatevelo pure a leggere c'è un bel po di roba soprattutto a livello di gameplay ci sono delle idee interessanti ma per il resto non so altro quali si è confermato confermato fare si è confermato lo split screen due giocatori però controllo sul sito più affidabile di questo qua www.cheatinggarage.com non so se esiste non ci è andata a cliccare che poi magari trovate le cose brutte cose orrende vabbè intanto andiamo avanti pare che si sia adesso poi al massimo fermiamo pensate che silent hills utilizzerà lo stesso motore grafico di pt quasi sicuramente anche perché si tratta del fox engine è ovvio che vogliono utilizzare quello avete visto il nuovo madden farete un play live non l'abbiamo visto ma non l'abbiamo visto e non faremo un play live in realtà potrebbe arrivare perché quello quello la quello a cui piacciono gli uomini muscolosi e barbuti anche gli piacciono tra i 10 tra i 10 secondi gli arriva e ti sente riccioli barbuti e quelli che fanno finta di avere i muscoli modellando il grasso che hanno intorno in piccati in bani ci sarà una modalità di screen ci sarà allora avanza conferiamo la modalità ma non sappiamo se sarà due o quattro giocatori mangiava due nella campagna per quale sicuramente la campagna potrebbe esserci anche molti perché gli ultimi hanno avuto anche nel multiplayer avanti questo abbiamo già risposto niki chiedeva delle conferenze di sony del tokyo game ancora niente ragazzi ne abbiamo parlato prima cioè non sicuramente faranno qualche annuncio ma non sappiamo veramente cosa presenteranno su 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 stavo leggendo le domande vuoi che le faccio a caso su facciamole a caso allora aha ma chi è che scrive le regole dei live comunque chiedo un semplice consiglio per stavolta vorrei prendere un buon picchiaduro per ps vita che cosa mi consigliate tra mortal kombat in justice il port di mortal kombat non era fatto male ma entrambi sono e poi pensate che l'abbandono del main programmer di final fantasy 15 porti gravi rischi sul gioco abbiamo abbiamo parlato per lo so ma se non me lo fai leggere si leggile leggile non è colpa mia se per leggere una frase ci metti 12 minuti o allora per voi della redazione chi ha provato snappery 3 in modalità in difficoltà snappery lit l'ho provato io l'ho giocato è bello tosto da affrontare non è affatto semplice c'era qualche problema anche con le missioni dovrebbe i testicoli diventano d'acciaio esattamente non è bello difficile giocare parecchio realistico ottima la balistica e come offre una sfida degna che ne pensate dlc di infamous con son abbiamo appena pubblicato la recensione che non è un votone 6 e mezzo gli ho dato che non è fatto i conti l'ho trovato abbastanza noiosetto e abbiamo due recensioni di due dlc in pagina uno ci è piaciuto tanto uno gli è piaciuto tanto al buon pregio parliamone parliamone caro parliamo del dlc dark souls che ci trova questa volta non completamente in sintonia e in armonia sulla valutazione perché tu gli hai dato 8 meritatissimo a mio parere per un fattore di legno ho capito parliamone se dici meritatissimo ammazzi il dialogo beh ma è tanto ragione io non hai ragione perché ci sono a i boss riciclati si e io otto a un dlc sì possibilmente sì ma come perché ho sto avendo ragione i boss non sono riciclati sono un boss riciclato che lo smelter e quello effettivamente è una cazzata ma chi se ne frega perché obiettivamente tutto l'altro non l'ho visto perché devo finire esatto parli perché è una merda non puoi dare un dlc cazzo concerto dove vi arriva non è della mia vita a imparare delle cazzo di cose che sparavano fiamme allora di la verità non mi si sente così non ci si sente possiamo tornare siamo siamo in onda ok spazzole spazzole il punto molto semplice valentini ieri hai stegnato minchia dalle 35 alle 40 volte con lo smelter demon blu e già quello e quello ti ha fatto girare la minchia perché per una volta non l'hai passato faccia ricordiamo che new game plus quel coso lì ha una barra d'energia ha cercato dalla furia hai cercato un boss su cui sfogarti non hai potuto affrontarlo perché l'altro avevi l'oggetto perché il boss del dlc l'avevo già ucciso prima di arrivare a svento ha cercato dalla furia non hai potuto affrontarlo perché ti mancava l'oggetto e detto cazzo no allora la cosa è così sono andato là per battere quel fottuto samurai de merda con l'armatura e stai spoilerando tra l'altro spoiler alert chi se ne frega ragazzi non avete giocato ce l'aveva vedere la ps4 male dovevate prenderlo su pc che nettamente migliore arrivate al post finale di s3 arrivate al pass finale schivando perché quel cosi lì non li ho ammazzati ci sono delle fottutissime sta spoiler alert ragazzi chiudete un attimo se non volete se mutate ci sono quelle fottutissime cose da impalettare sono arrivato su e ne avevo 8 su 11 torno cazzo non funziona quella merinciato di avere tutti allora mi sono rifatto tutto il dlc tutta la cazzo di mappa con le loro ascensorine che è una cosa che odio eccetera e mi sono andato a recuperare tutti i tutte le anime sono tornato su e non funzionava di nuovo e mi ha detto guarda che devi ammazzare tutti gli invasori allora sono andati in giro ti hanno mentito ma quindi il motivo per cui tu non hai preso il dlc perché ti sei fatto per culare brutalmente per un'ora da quelli che avevi in chat e quando sei arrivato al momento qui ti sei reso conto che ti avevano preso per il culo che non potevi andare avanti erano le due di notte a parte che dopo la dpt dovresti capire che non devi fidarti nessuno e questo è ovvio però il discorso è che è un altro dlc alla dark souls ed è una cosa che questa media dark souls un po mi fa girare le balle e c'è la cosa perché appunto appunto per cioè è bella per te per me dare un boss così opzionale e non lasciare nessun indizio al giocatore è quello che ti dica valentini no 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 perché te dark souls 2 è piaciuto tanto più dell'uno perché era molto più chiaro era molto più cristallino la gente ha chiesto vogliamo un ritorno a dark souls 1 gliel'hanno dato era la testa e la gente è contenta tu no perché a te dark souls 1 è piaciuto di meno però non è che il dlc non è bello il dlc è esattamente quello che doveva essere quindi cos'è stata a fare questa discussione del canzone dall'inizio alla fine vai avanti e fai le domande quello che non capisci che non capisci che non comprendi non capisci quando stiamo disquisendo sul ho letto un commento sotto la tua recensione tipo la rotolata una merda anche se rotoloni colpiscono lo stesso di chi aveva fatto uno youtuber è vero no apriamo una parentesi apriamo una parentesi ragazzi se si parla di meccanica esatto qua dei videogiochi e analisi dei videogiochi smettete di dare ascolto ai cazzo di youtuber il rage l'abbiamo perso e che cazzo ce ne saranno due che sanno di cosa parlano smettete la perso mi dissocio da questo rant ma comunque stavamo dicendo qua non stavamo parlando ovviamente dicevo non stavamo parlando ovviamente di meccaniche e su quello ci troviamo d'accordissimo i pregi nel senso che dark souls sia secondo me anche secondo te da quel punto di vista è impareggiabile per la profondità eccetera parlava appunto di accessibilità e no no è chiaro cioè tu apprezzi l'accessibilità maggiore quel dlc secondo te è troppo come dire oscuro allora ti io voglio fastidito voglio chiederti solo una cosa è visto che il loro per me non esiste tutti sbatti del loro esatto e cerco solo e cerco solo sfide ci sono indizi all'interno del dlc che ti dicono che devi avere la nebbia per entrare nei ricordi del samurai beh ma sti cazzi c'è non è che nell'interno del dlc è una cosa che succede nel gioco e lo sai allora tu potresti anche non esserci arrivato non compri il dlc il dlc perché no perché non lo compri quel dlc me l'hanno piazzato subito dopo forte ferro ma tu hai finito il gioco ma non l'ho finito che sì perché sei nel new game plus ho capito che io io l'ho finito ma un utente cioè quel dlc è posizionato è dopo forte ferro questo vuol dire che ne puoi accedere posso accederci prima di essere arrivato ok arriva di tutto poi dici non posso più fare una mazza finisci il cazzo di gioco torni lì e finisce il dlc perché ti rendi conto che forse poteva entrare nei ricordi no no non sono d'accordo secondo me sì nel senso quelli sono dlc chiaramente calcolati come in game anche perché per passarli con facilità che poi tutto modo di dire il soul level consigliato è 160 soul level 160 cosa cazzo sei a metà gioco no tu tu forse perché hai farmato come un animale ma di norma l'hai già finito quali sono dlc calcolati per il post game e ampliano la lore del post game quindi non puoi vederli come dlc da metà gioco sono pensati per il dopo gioco è finito sì bravo possiamo andare avanti bene oh ando su sta cosa non ci beccheremo ma spero di trovarti impiccato smetto di farti vedere durante il giorno dai dai sono le sei un quarto forse è meglio se ragazzi voi iniziate a fare le domande sulla chat che ci siamo dilungati troppo tra l'altro mi sa che domani abbiamo live su dark souls oddio abbiamo live su dark souls domani sì sì devo anche scaricarlo sì su pc tra l'altro c'è la ps3 a su ps3 e sì perché usiamo la ps3 abbiamo dei personaggi abbiamo il mio della recensione barabba che non serve a niente è uguale identico il tuo anche la build solo che uso le spade invece dell'arco quindi posso giocare anche con l'arco ricamente sì ottimo domani solo che non ce l'ha il black hunter bow si ce l'ho mi sembra sembra di sì però non è un livellato insomma vedremo domani fare qualcosa di spettacolare magari lo faccio che a metà io e metà pregi e vediamo come però io gioco un bel canter bocchetto gli eventi però può sparare dalle fessurine la spalla non c'entra allora come reagirà nei video giocatori moderni quando uscirà il remake di resident evil ai tempi poteva risultare un capolavoro ma non credo che otterrà lo stesso appeal che ebbe ai tempi non c'è fatti snake 6 non può avere lo stesso appeal per un semplice motivo allora resident evil era un gioco che faceva molta paura perché ai tempi fu il primo del suo genere e era molto limitato a livello di meccaniche c'è il terrore derivava dalle limitazioni tu eri avevi un cazzo di manichino e quando arrivava la roba era tutto un pericolo persino gli zombie il fatto chiaro aveva grande atmosfera aveva grandi aveva dei jump scare piazzati molto bene era molto intelligente in tante cose però diciamo che la maggior parte la tensione arriva alle limitazioni il remake già a mio parere aveva meno teso però a grandissima atmosfera è fatto molto bene però adesso 2014 la gente come abbiamo detto già desensibilizzata gli horror game hanno preso un'altra strada il survival horror vecchio stile difficilmente funziona ancora benissimo sembra da quello che abbiamo visto la games con che the evil within ce la stia particolarmente facendo però è comunque molto action per certi versi un po survival un po action un delle due cose fatto sta che a livello di paura paura secondo me non ha lo stesso appeal c'è e come sempre è un'operazione nostalgia la apprezzeranno quelli che se lo vogliono rigiocare dopo tanto tempo ma poi buono sono tutto ascoltando come al solito e tavole gene era una domanda retorica comunque davanti allora ci chiedevano anche aspetta che c'era un'ultima domanda dei commenti che era abbastanza ah sì i dlc di mario cartotto che hanno subito che sono bellini sono molto belli beh cavolo c'è pensa quattro piste cavolo non sono di più no quattro piste dlc mi sembra 4 a dlc c'è un 3 dlc 3 dlc 4 piste a dlc tre personaggi e nuove auto per ogni dlc il tutto a 7 euro dlc che è un prezzo più che onesto anche perché considera la cura con cui normalmente sono fatte le piste di mario kart e ottieni una bella roba da una parte sono d'accordo con quello che hanno scritto certi utenti nel senso che vedere nintendo che fa dlc mi disturba non mi piace vedere nintendo che si adegua alle strategie commerciali degli altri sviluppatori vuol dire che c'è qualcosa di estremamente storto con tutto il mondo dei videogame ed è una cosa che mi fastidisce tantissimo però diciamo che nonostante questa cosa mi fastidisca notevolmente sembrano dlc di un certo livello cioè quando tu mi dai quei contenuti a 7 euro con la cura storica di nintendo per i suoi prodotti non è esattamente la butter via quindi si sono sono curioso di vederli e l'idea che stiano trasformando mario kart in una sorta di smash kart perché meno male adesso ci infiliano che i personaggi ci mettono link scusa faccio l'avvocato del diavolo ma i dlc di nintendo sono stati lanciati nel 2000 mamma mia come si infervora quando i tocchi pitch si 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 ma anche super luigi super luigi fondamentalmente era un dlc però comunque hai mai visto nintendo rilasciare map packs a me preoccupa di più l'arrivo delle mercedes in mario kart si quello quello fa un po' strano però alla fine era gratuito no maria io esco quello quello si però dlc con questa strategia qua nel senso io ti metto dei pack a tot euro saltuari per un gioco singolo quella un po' mi infastidisce era evidente che si sarebbe mossa in quella direzione lì perché vabbè per esempio gli amiibo già lasciavano intuire questa cosa qua però non è una strategia che nintendo segue spesso o se la segue la fa diversamente dalla massa quando lo fai come la massa cioè quando ripeto quando è nintendo che si adegua la massa la cosa mi disturba capisco che sia già stato fatto questo in passato però non mi sembra che sia stato fatto così l'ore tutto qui va bene andiamo avanti con le domande che abbiamo 15 minuti scarsi dalla chat viene fuori qualcosa di sensato si viene fuori qualcosa di interessante perché c'era una domanda che ovviamente quando ho fatto così si è girato tutto è scomparso perfetto caputa te la ricordi vero? sì ma non mi ricordo di chi ah ok di Carlo Andrea 1997 che spero siano gli anni e non la data di nascita perché mi fa sentire tremendamente vecchio sei tremendamente vecchio ma la stessa cosa di Volvo vale anche per Rainbow Six a me intriga parecchio sto gioco ma mi sembra anch'esso carente di contenuti hanno fatto vedere pochissimo di Rainbow Six è una possibilità però diciamo che Rainbow Six sono sempre stati giochi con campagne abbastanza elaborate quindi mi aspetto delle missioni un po' più sostanziose della semplice missione online salva l'ostaggio cioè credo che ci sarà un single player e credo che sarà molto ben calcolato quindi difficilmente ci sarà lo stesso problema però ripetiamo ragazzi non abbiamo la sfera di cristallo quello è un multiplayer più classico di Evolve secondo me è quello anche con tatticissimo, molto intelligente per dirti quattro mappe con cinque giocatori per parte funziona lo stesso Evolve ha bisogno di qualcosa di più sì ha bisogno di classi e ha bisogno di illustri anche perché appunto Rainbow Six è un gioco anche se vuole player ogni partita che giochi con la distruttibilità che ha e con la strategia all'interno del gameplay è una partita diversa Evolve rischia purtroppo di avere sempre la stessa modalità di approccio visto che la mappa identica la varietà dipende proprio dai mostri la mappa è cambiano in realtà sono più mappe però sì 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 però su una mappa quello che dice è vero sì 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 le strategie sono quelle le strategie sono quelle quindi chiaramente devono cambiare i mostri e devono cambiare le classi assolutamente e poi ricordiamo ripetiamo Rainbow Six potrebbe essere un gioco anche single player con un single player elaborato Evolve solo multiplayer quindi se ha pochi contenuti bam ok qualche novità sui giochi plus di settembre Velocity 2X e Sport Friends eh? sono i giochi plus di settembre eh? che giochi? non so Velocity 2X e? Sport Friends ma ci sarà sicuramente qualcos'altro sì spero altra roba? ci chiedono se esiste il momentum deve essere FIFA domanda non rivolta a pregi c'è scritto ma che cazzo ne sappiamo ragazzi cioè ma poi ripeto tutti dicono un momento un momento un momento un momento un momento è una cosa tutta europea in realtà questa ma sì perché non giocano da altre parti no è vero anche quello però è una cosa molto italiana comunque anche ah questo però ci sono sicuramente degli algoritmi che variano le percentuali all'interno del gioco ma non lo nessuno sa nessuno è andato mai a vedere il codice del gioco e a guardare se c'era una linea di codice che diceva eh se tu stai giocando in un certo modo la partita improvvisamente va a tuo favore c'è molta gente che pensa che sia così io continuo a dire che e tu continui a dire secondo me è una minchia c'è chi dice no no io sono sicuro che c'è gli sviluppatori negheranno sempre finché non arriva qualcuno che si va veramente a guardare il codice di gioco e dice ah ho beccato questa linea di codice c'è sicuramente il momentum la prova non ce la potete avere quindi è inutile che lo chiedete potete credetici non credetici sono affaracci vostri tanto alla fine della fiera la FIFA vende comunque un milione di copie nel nostro paese quindi assolutamente sì e più che altro credo che con così tanta gente che gioca a FIFA e con così tanti smanettoni ma sì la c'è sempre la tendenza sarebbe dovuto uscire la cosa in maniera palese e invece c'è sempre ricordatevi ragazzi che la tendenza sempre del giocatore medio anche nostra e in molte occasioni quando sfasiamo è spesso che quando perdi non è colpa tua è colpa del gioco ma parlo per te non è così io non perdo mai non lo so questa cosa 30 morti allo Smelter Demon dicono il contrario ma che 30 morti lì non perdevo venivo sconfitto ma ero pronto a rialzarmi e alla fine l'ho battuto ci sarei stato tutta la notte per battere qualcosa ti sei nato vicino comunque andiamo avanti 18 bastardo allora Matt Next pensate che PS4 e One arriveranno ad avere un parco titoli paragonabile come varietà e numero a quello delle vecchie console ci spero chiaramente così come lo sperano tutti i suoi acquirenti è partita solo molto lenta perché sono partite molto presto le console non dovevano uscire l'anno scorso senza contare che tra l'altro come abbiamo detto i tempi di sviluppo si sono allungati sensibilmente quindi ragazzi è un inizio molto più lento e zoppicante rispetto alle vecchie console quello delle nuove console speriamo e crediamo che miglioreranno sensibilmente con il passare degli anni perché più passano gli anni più sono i titoli notevoli che arrivano sulle console che si parli non solo di esclusivi ma anche di multiplattaforma ovviamente però ripetiamo ci crediamo bisogna solo aspettare esatto buon pregini andiamo avanti con Super Saiyan Fodule sarà Super Saiyan Faster Than Light mi viene da chiedere vabbè multiplayer in Dragon Age parere hai visto il video della co-op rilasciato oggi? allora il multiplayer in Dragon Age in realtà non ho visto il video della co-op l'hanno rilasciato oggi l'idea mi stuzzica in realtà perché tu hai visto il gameplay no purtroppo non ho ho visto il gameplay di Dragon Age non ho visto il co-op però il gameplay secondo me si sposa bene alla cooperativa online perché fondamentalmente quando lo giochi action in tempo reale il numero di azioni che puoi fare la gestione per ogni personaggio di un personaggio può essere molto interessante a livello tattico cioè ti gestisci magari col microfonino e dici tu metti il ghiaccio lì tu sordici quelli lì tu cura quello può portare delle ottime cose certo è chiaro deve essere supportato da un'IA altrettanto impegnativa con delle strategie nemiche che ti portino a dover effettivamente coordinarti con quelli con cui giochi perché se è tutto un un button mashing e giochi a caso tutto sto ben di dio non esiste però se in cooperativa lo giochi alla difficoltà massima le mostre effettivamente sono intelligenti i bastardi ti costringono a coordinarti potrebbe essere potrebbe essere spero che non sia una modalità a parte spero anch'io spero che sia proprio campagna giochi con gli amici loro ti chiedono se farai una lista di titoli tra i quali votare per il prossimo Retro Night farai una lista però prima della lista potreste trovare me il buon loresca e il buon pregi che giocano o a Cadillac in Dinosaurs che è una cosa che ci stuzzica o ai vecchi Dungeons and Dragons magari la chiusura con Double Dragon con Dragon's Dogma con Dragon's Dogma non con Dragon's Dogma sono in Dragon's Crown Dragon's Crown con Dragon's Crown che rappresenta l'evoluzione di quelli effettivamente sarebbe bello fare un live intero su Dragon's Crown non ha molto senso anche perché è lunghissimo però se lo fai con prima Tower of Doom poi dopo mezz'ora passi all'altro poi dopo mezz'ora passi all'altro funziona secondo me molto meglio potremmo fare quello esatto let's go let's go tanto mancano dieci minuti ancora un paio di domande abbiamo chiuso allora mi chiedono della recensione di Risen e cosa ne penso di Risen in generale arriverà ragazzi purtroppo è arrivato sotto Cologna è andato un po' è stato un po' di casino è andato un po' a farsi benedire quello vi dico che non mi piace per niente il gioco lo trovo legnoso all'inverosimile per quanto riguarda il combattimento non ha praticamente tecnicismi il combattimento degno di nota i mostri pattinano per raggiungerti l'IA è pessima e i bug come al solito sono assolutamente il tipico gioco di Piranha Bytes peggio di quello dell'anno scorso perché replica esattamente gli stessi errori che ha fatto l'anno scorso e quindi quest'anno lo bastonerò senza pietà mi chiedevano anche delle chiavi di World of Warcraft ci sono stati un po' di problemi perché alcuni di voi hanno abilitato tardi la ricezione dei messaggi privati quindi siamo ancora in ballo non sono ancora uscite tutte arriveranno però dentro la fine settimana crocettino sul cuore secondo voi vedremo un Devil May Cry 5 fatto per bene vecchio stile chiede Black Trigger 97 ho dei grossi dubbi ho dei grossi dubbi perché per un Devil May Cry serio fatto bene vecchio stile ci vogliono gli sviluppatori che sono andati a Platinum Games e conoscendo Kamia il suo attuale rapporto con Capcom barra nei commenti che fa su Twitter eccetera eccetera difficilmente gli diranno facci un altro Devil May Cry per carità quello che ha fatto Ninja Tier è un bellissimo gioco è un ottimo action hack and slash però ragazzi credo che la serie sia morta lì cioè si è chiusa con quel reboot e finirà lì ok Shadow Rians mi ha fatto cadere l'hype che avevo voi avete provato al Gamescom sì non ci è piaciuto non ci ha stupito particolarmente l'ho provato una mezz'ora buona no proprio no non è il no di Fable Legends che quello è proprio no quello è proprio no ma è un non ci convince mica troppo né la build era prematura sì nel senso che era ancora parchi indietro ho fatto vedere troppo presto non mi ha convinto spero di rivederlo in forma migliore in futuro in futuro esattamente nuove notizie dal nuovo Dragon Ball nulla che non ci sia nella nostra preview fondamentalmente si spera un ritorno al passato però io personalmente non l'ho provato quindi non ti so dire ok pregi secondo te di cosa si tratterà l'annuncio dell'avolition dice Pain Killer 5-5-9 boh potrebbero fare un nuovo Sinthrow o potrebbero fare qualcosa di completamente diverso sicuramente faranno qualcosa di completamente folle perché conoscendoli sarà molto over the top poi ma Game of Thrones The Tale Tale è scomparso no credo che ci stiano lavorando ci stiano lavorando sicuramente a proposito di Cell Tale è uscito ieri sera l'ultimo episodio di The Walking Dead e me lo devo giocare perché sono proprio curioso di vedere come va a finire quindi aspettatevi ma quanta roba c'ho da fare quanta roba c'ho da fare basta 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 datemi tregua blocca per un po' la tua vita sociale che già è un po' scadente ma bloccala e lavoro non riesco non riesco non posso va bene andiamo avanti con le domande che se no va via la testa allora torniamo su torniamo su torniamo su pregi cosa ne pensi di WWE 2K15 quanto è cambiato secondo te da 2K14 a livello di gameplay un po' perché hanno modificato un po' di robe però sono ancora gli yooks fondamentalmente alla base credo che l'evoluzione sia stata principalmente del motore grafico che è chiaramente molto migliorato rispetto a quello di prima a livello di gameplay però mi sembra che ci siano state più che altro delle aggiunte che il sistema fondamentale sia rimasto un po' lo stesso non lo so io non sono un super appassionato del gameplay degli ultimi WWE se ti devo dire la verità non mi ha fatto mai impazzire è fatto bene poi è molto complesso gli yooks sono comunque dei grossi esperti di wrestling però non non mi scompifferà più di tanto quindi spero che ci siano state le modifiche sostanziali e per il meglio in WWE 2K15 che dovrebbe essere aver reso il tutto un po' più realistico paradossalmente ok JDAM io chiuderei con questa di JDAM sono le 6 e mezza devo aprire un post importantissimo allora e poi tra un po' devo fare il live anche io due cose ragazzi importantissime prima di chiudere yes la prima settimana prossima porteremo 10 di voi a provare PES in anteprima qua a Milano da Arifax apriremo adesso un post appena torno in postazione con tutti i dettagli dell'evento quindi 10 fortunati di voi potranno venire con me e probabilmente anche il buono del Scaci sarà a provare in anteprima PES 2015 direttamente a Milano invito libero sceglieremo 10 persone di voi per venire con noi quindi sulla base delle banconote da 50 euro sulla base delle banconote da 50 euro che verranno recapitate a me a compregianza cioè meno gliene mandate e più avete possibilità di venire no a parte scherzi apriremo con tutti i dettagli i post per i volontari appena finisce la diretta datemi 5 minuti che ve lo metto in piedi e chiuderei il live con questa domanda di J.Dum 19 999 che chiede sapete qualcosa di un nuovo Total War no alla prossima e no aspetta un attimo perché ricordiamo tra l'altro che io stasera devo finire ah perché c'è un'altra roba devo fare il live night il live jump con Elite Dangerous quindi chi mi ama mi segua e basta tutto qui sperando che il satellite regga perché sono nello spazio mi ammetti che lo becco lo becco per sbaglio sono cazzi acidi basta alla prossima ciao ciao